Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Matt837 e benvenuti in questo secondo episodio di American Truck Simulator Ho bisogno di un po' speciale perché ci acquisteremo il nostro primo camion grazie a un prensito della banca Perché vi spiego, mi sto annoiando, aspettate mi sto annoiando Non mi piace andare in online e ogni volta scegliere un carico, un'offerta di lavoro come lavoro dipendente E appena la prendo, arriva lì e mi dice sbrigati che il datore ti sta aspettando Perché il problema è che non so se è un bug o è proprio il gioco Che non ti lascia prendere i carichi, i multiplayer perché dopo l'orario è squilibrato con quello del server E quindi automaticamente sei in ritardo Vabbè, quindi essendo che il single player sia bello però Vex finalmente si è acquistato al gioco e anche Anto Quindi appunto abbiamo deciso di acquistare un camion Così siamo autonomi e possiamo giocare tranquillamente nel multiplayer Vi faccio vedere il camion che mi piacerebbe acquistare Allora ho sbloccato la concessionaria Kenworth di Los Angeles Quindi visitiamo il concessionario E questo è il modello Allora, è il modello base più base che non esiste 370 cavalli con la cabina dei cab, un 6x4 Avevo messo d'occhio come Vex a livello 7 questo modello qua 6x4 con 455 cavalli però costa tanto come livelli Noi siamo neanche a livello 4 quindi arrivarci è veramente veramente dura Allora, abbiamo 16.119 dollari Quindi direi di farci un bel prestito di 50, scusate, 100.000 Ok E vediamo quanti soldi arriviamo Arriviamo a 116, non basta Direi di farne un altro di Questo è 50.000 quindi 1.207 300 Ammontamento 28 giorni 42 giorni E questo qua è voglia Direi di farci questo qua 10.000 per ora Anche se 17.000 Dai Ci facciamo questo qua Ah, da 10.000 dai ho deciso È troppo signori, è troppo, è troppo 126.000 Vediamo se riusciamo Altrimenti veramente mi incatto Mi incatto come una iena perché Visitiamo il concessionario 120 Abbiamo 6.000 dollari Dai, dai che ce la facciamo a restituire tutti i soldi della banca Eh, magari Allora, personalizziamo al minimo la configurazione Allora, gabina Abbiamo la day cab Ok 6x4 short 150 galloni Sembra che ne trasporti di più Motore Per ora abbiamo il 370 cavalli Va bene E cambio 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 10 con retarder No dai, teniamo questo qua perché non abbiamo sgay Ok Colorazione Allora abbiamo questo che è il satin grey Vine grey Che è vecchio Creamy grey che sembra veramente Boh Color banana Crimson red No Graffiti black No Metallic chiuan Non mi piace E nemmeno il blu Quindi direi di prendere un colore personalizzato perché non abbiamo soldi E di farcelo Di farcelo di un colore Bello ma non troppo Cioè è bello ma non troppo vivace Quindi tipo un giallo così Vediamo dalla gabina come si vede È troppo secondo me Troppo 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 Un po' più Un po' più 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 Ok Perché giallo Giallo mi piace come colore Non è il mio colore preferito Però mi gusta su questo camion Se noi abbassiamo un po' la gradazione Troppo Però È già Tipo così Così mi piace Così veramente è carino Mi piace sì Allora vediamo qua cosa possiamo fare Allora possiamo mettere gli specchietti Ok Possiamo cambiare i cerchioni Allora io faccio una cosa del genere Ragazzi Butto lì eh Cioè io lo personalizzo e vedo il prezzo Sotto Allora 80 dollari Ok Per il resto non possiamo fare altro No perché è tutto sbloccato Satinato E questo qua è Sbagliato Satinato 123 Oddio mio ragazzi Allora questo qua cos'è Roba estetica No direi di no Direi di no Ehm Gli specchietti cosa cambia Double No guarda Lasciamo Quello Qua non bisogna 50 Vabbè dai Così Questo qua direi di Di tenerlo Di tenerlo così Mentre vorrei acquistare Qua cos'è Sarà tipo L'affare Comunque vorrei acquistare Questo Questo qui Che Magari è brutto Però Ehm È più carino Perché non ho L'ud Qui in alto a destra Del Come dire Dello specchietto Quindi invece di girarmi Ogni volta A destra Lo teniamo qua Ehm Qui interno cos'è Ah ok Sono sempre le solite Qua Ah ok L'abbiamo fatto Ah ok È l'altro Ok E qui Abbiamo il Canvort Modern E qua cosa abbiamo Abbiamo il Pomello da americano Però non mi piace Non mi piace Nada Nada De nada Ehm Allora il camion È codesto Ehm Bello Mi gusta Qua dietro non possiamo farci niente No Per ora no Ehm Mentre li scarichi Nada De nada Va bene ragazzi Dai ci teniamo questo camion Il costo 123.000 070 Ehm Dollari Ehm Quindi direi di fare Conferma Ehm Stengiamo i denti Facciamo acquista E abbiamo solo 3000 Dollari Bene 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 Ah ok Proprio Così Figo 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 Oh Dove stai andando 370 cavalli Signore Veramente Veramente Poco Però Ci regoliamo La cabina Ok Poi Ci mettiamo dritto Il L'affarino Qua E lo Mettiamo un po' Così Perfetto Allora Voi pensavate che il video Finiva qua Però no Volevo fare Sempre in single player Un Lavoro autonomo Vediamo quanto ci danno Proprio da Questa Las Vegas Dobbiamo prendere Si Il più piccolo Proprio Da 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 No Così 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 Ok Questo mi va Questo mi va Lo prendiamo subito E andiamo Ready to To go Comunque si è comodo Lo specchietto lì Anzi Come vi dicevo Togliamo direttamente Lo Di Madonna Vediamo di non far danni Perché siamo Da soli Bello Bello il colore Proprio Bello Mi gusta È verde Si è verde Mamma mia Il retardo ragazzi Non l'ho messo Perché ormai Mi sono abituato Al freno motore Che è questo Quindi direi Dai Lo teniamo così Al limite Più avanti Cambiamo i rapporti Però Prima di Di acquistare Bisogna Saltare Un mutuo Ora Quando diventa verde Ok Nella precedenza Aspettate che arriva il taxi E possiamo andare avanti Si perché ragazzi In America Se è rosso Di fronte a voi Ma il Il semaforo di destra È Verde Possiamo Andare Se Quello di sinistra Cioè Se vogliamo fare la stessa Perfetto di sinistra Non si può Ok Merda Deceleriamo Prima Che Mamma mia Che figura Di Metta Proprio Ha acquistato Il camion Subito bisogna avere Subito Sia la multa Ma vabbè Perfetto Mamma mia Se vi state chiedendo Il perché Il motivo Perché Ho la marca preferita Della camboard Ho sbagliato Anche corsi di preselezione Mannaccio Ho messo Come Marca preferita Peterbilt Ma ho comprato Un camboard È perché Questo camion americano Mi piace Così Non sono strattamarri E quindi Mi piacciono Ok Perché Di per sé La marca Kenwult Non mi gusta Mi piace più Peterbilt Il problema È che nel gioco Cioè La Peterbilt Fa questo modello qua Ok Come la Kenwult Che è questo modello Che stiamo guidando ora Il problema È che nel gioco Devono ancora Inserirlo Ci spostiamo Qua meglio Aspettare Il verde Va là Perché non voglio Rischiare qua Semmafori Non ce ne sono Non ce ne stanno Ah un altro Con il camion giallo Come il nostro Dopo quando Sbloccheremo Le livree Metteremo anche quelle Però Ripeto Già tanto Che ho avuto Il coraggio Di fare Il muto In banca Magari farò Proprio un video Dove Venderò il camion Per pagare il muto Ragazzi Perché È un casino Però Bisogna andarci Dentro Dentro E cos'è E cos'è Centinato Centina lunga Dai prendiamo il carico Lungo Noi siamo i più I più Mamma mia Perché Vabbè L'ho presa lunga Perché mi piacciono I rimorchi Quelli Iper mega lunghi Tipo Rimorchi Eccezionali Trasporti Eccezionali Però Mi pento Perché Già La cabina Cioè scusate Il trattore stradale È di per sé Lungo E quindi Il bello del day cab È che possiamo fare Tranquillamente A retromarcia In questo modo Anche se non possiamo Girarci Totalmente Infatti Meglio farlo così Ok Veramente Veramente Centrale Siamo andati E partiamo Subito Allora abbiamo Quattro ore di viaggio Dobbiamo andare A Kingman Quindi è una È una cittadina vicina Ok Cerchiamo di allargare Qua la collo Che non voglio far danni Purtroppo Non c'è Lo specchietto Per vedere Il paraurto Insomma Dove si va a toccare Però Vabbè Pazienza Orco Sono andato anche Contromano Per nessuno Nada In nada Anche un po' Fandanda Con il Col camion giallo Qua Is green Quindi Andiamo Andiamo a codo Proprio No a codo no Aspettiamo i limiti Vabbè Che non venga fuori Spendiamo altri 400 miliardi Di Di euro Scusate Di Dollari Per le multe Allentiamo Ok Allarghiamo E via Via come il vento Con questo Camioncino Non vedo Ora di sbloccare I camion D D D Con i motori D Oppure Cut Però Mi pare Che è solamente Con le Con le moto Che si possono Contenere Perché lo Perché se lo chiede I motori DT Sono Detroit Diesel Mentre i cut Sono quelli Della Caterpillar Normali Ok Limito 80 Quindi Drive Carefully Sì Lo farò Veramente Con onore Perché non ho voglia Di stargli a spendere Altri soldi Nonostante Abbia Solamente 300 E passa cavalli Viaggia Dai Un po' in discesa Li prende Arriviamo Proprio Al limite Della velocità Consentita Cerchiamo Anche Di superare Per sempre Far danni Possibilmente Ecco C'è un po' Grattata Merda Merda Ragazzi No Non ci voleva No Lo sapevo io Che non dovevo Superare Caspita 20% Di danni al carico Non ci darà Neanche una Una lira Secondo me Mamma mia Che imbecile Che sono stato Non dovevo Dovevo assolutamente Superare In quel punto Vabbè Ormai Il dado È Tratto Ci accontenteremo Del Dei pochi soldi Che ci saranno Anche se la reputazione Proprio Sarà brutta Brutta Tanto le macchine Che volano Non so se avete visto Oh Bello Ma forse sono io Che sono Troppo In centro Della carreggiata Intanto mancano Ah mamma mia 21% di danni Vabbè Tanto manca Un'oretta Quindi Veramente poco Trocchiamo di Di accelerare Ma Dubito che Riusciamo ad arrivare A guadagnare qualcosa Paziente Vai Tanto volevo Sottolineare Il fatto che In questo gioco Tanta gente L'ho depretto Cioè Ho sentito in giro Anche sui forum Che non gli piace Che è brutto E quella E la loro track Che sinceramente È un po' vero E quella La loro track Solamente Cosa vogliono Cavolo Sti qua Della paesa Anche Mamma mia Vabbè Stavo dicendo Che è simile All'eurotrack È un po' Spoglio Quello È vero Però Anche Eurotrack All'inizio Era leggermente Spoglio Dai Ok Un altro Col camion giallo Uguale al nostro Vediamo se si muove Bravissimo Vai Ok Così 68.529 libri Beh L'utilità della Pisa Che non ti dà neanche multe O cosa Caspitarina Vai Passi Dai che devo mollare L'affezione Vai Dai 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 Mamma mia La lentezza Fatta in camion Ok Via Libra Potevo mettere anche Davanti un altro Specchietto Come Quello lì Sulla destra Però dopo Mi sembrava inutile Poi la visuale Troppo Piena di oggetti E di cose Vedete che è meglio Rallentare Veramente 25 miglia 25 giusti Che non vengano fuori Cavolate Che Ci perdiamo multe Che non dobbiamo Prenderci Allora ci mettiamo In questa corsia qua Che vedo che Dalla Dalla Minimappa Minimappa Scorata GPS Il nostro Punto di scarico È sulla Sinistra Quindi Evitiamo di fare Cavolate dopo Comunque Volevo Dirvi anche Che Non mi sono Scordato di Oro Track I video usciranno Anche di quelli E Magari Uscirà Un pseudo Episodio speciale Perché Faremo forse Un bel convoglio Da 4 persone Purtroppo Perché Altre persone Magari Non hanno Nelmeno il gioco Comunque Con una nuova persona Appunto È verde E' rosso Perfetto Giusto Giusto Dicevo Un iscritto È entrato Nel server Di Tipspeak Che lascia Comunque Il nostro server Tipspeak Che lascerò L'epin di iscrizione E quindi L'abbiamo Invitato Insomma Mi hanno detto Perché no Vieni a giocare Con noi E niente Insomma Magari faremo Qualche convoglietto Di breve durata Perché Non ho voglia Sinceramente Di Di star lì A A registrare Magari Per due ore Consecutive Dopo Fare Vedere Un video Di 20-30 minuti Basta Ok Allora Diciamo Di fare Il parcheggio Quello più easy Voilà Esatto Quello proprio easy Easy Che non abbiamo Problemi Intanto vediamo Di non toccare Con il paletto Paletto Scurta Con il rimorchio Rallentiamo Perché non me lo do L'è Il letto Proprio C'è proprio Un letto Di gioco Vediamo Un track Te lo dava Casper Scusate Se userà La 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 camera Esterna Solo che Devo ancora Prendermi Prendere un po' La mano Se voglio Ok vediamo Quanto possiamo Guadagnare Con questo carico Marta Danneggiato 341 tonno Vabbè ragazzi Per questo video Tutto Mi dispiace Di aver guadagnato Così poco Ma pazienza Iscrivetevi Lasciate un like Commentate Se il video vi è piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti